E' giallo a cellule, comune del Casertano, dove nella tarda mattinata un cadavere è stato ritrovato dalle autorità nei pressi di una pineta. L'allarme alle forze dell'ordine era arrivato per un'auto in fiamme in località Baia Domizia, nell'area balneare del comune. Giunti sul posto, però, la magabra scoperta. All'interno della vettura avvolta dalle fiamme, i militari hanno infatti rivenuto il corpo senza vita di un uomo. Il cadavere carbonizzato, secondo le primissime indiscrezioni, ancora in fase di conferma, apparterebbe a un insegnante di 58 anni. Prima la deposizione di una corona di alloro in onore dei caduti al mausoleo di Posillipo, poi la consegna delle benemerenze concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini meritevoli dell'area metropolitana di Napoli. Nelle parole del prefetto di Napoli, Claudio Palomba, le ragioni di una doppia celebrazione. È delle forze armate e dell'unità nazionale, quindi in un momento come questo abbiamo voluto accomunare anche questi riconoscimenti perché significa che ci sono ancora tantissime persone, la maggioranza che crede nello Stato, nei valori della Costituzione e nell'unità nazionale. Crudeltà, premeditazione, futili motivi. Queste sono tre delle quattro aggravanti contestate dall'aggiunta Letizia Mannella e dal PM Alessia Menegazzo ad Alessandro Impagnatiello, che poco più di cinque mesi fa ha ucciso con 37 coltellate la sua compagna Giulia Tramontano. L'autore del delitto di Senago resta in carcere a Milano, mentre le informazioni raccolte nel corso delle indagini delineano sempre più precisamente i contorni di un omicidio premeditato molto prima di quanto sia stato poi perpetrato. Era stato arrestato dai carabinieri il 26 ottobre del 2021 per presunte violenze e abusi ai danni di un tredicenne, ospite nella comunità da lui fondata. Oggi il caso di Don Livio Graziano torna agli onori della cronaca, con il sequestro conservativo di ben 220 mila euro disposto nei suoi confronti dalla quarta sezione penale della Corte di Appello di Napoli. Napoli, capitale mondiale della cultura per tre giorni. Dal 27 al 29 novembre prossimi il capoluogo campano ospiterà l'evento internazionale dell'UNESCO per i vent'anni della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale. Sono stati invitati rappresentanti ed esperti dei 194 paesi membri per elaborare risposte comuni alle nuove sfide che attendono il patrimonio materiale e immateriale dell'umanità. Una notizia bellissima se non fosse che a Napoli il progetto per il recupero del centro storico patrimonio dell'UNESCO sono fermi al palo. Tutti in campo per salvare l'arco di Portalba. Intellettuali, architetti e commercianti sottoscrivono l'SOS lanciato dai Librai. La storica volta della via dei libri è impacchettata da oltre un decennio. I crolli di calcinacci sono continui e il rischio è alto. Intanto migliaia di persone, turisti e cittadini passano sotto l'arco di giorno e di notte. Da più parti si invoca più decoro per i monumenti del centro storico. È un 98esimo posto che sa di sconfitta, quello occupato da Napoli nella classifica stilata da Lega Ambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore. Ecosistema Urbano è un report che fotografa lo stato dell'arte di ogni città e la qualità della vita assicurata ai suoi residenti attraverso l'implementazione di politiche green. Su un totale di 105 nomi, quello di Napoli perde addirittura 6 posizioni rispetto alla graduatoria generale dell'edizione 2022 del reportage. La più green in Campania è Benevento, 59esima in classifica, in risalita dopo essersi piazzata a 76esima lo scorso anno. Prove tecniche di dialogo nel centro-sinistra di Napoli in vista delle prossime elezioni europee. Il consigliere comunale Nino Simeone è letto nella lista Napoli Libera, vicina al governatore Vincenzo De Luca ed oggi nel gruppo misto rispolvera il vecchio simbolo del PSD, partito socialdemocratico, per tentare di dare nuovo slancio all'area progressista. La sede dell'Ordine degli Ingenieri di Napoli a Palazzo Partanna, in Piazza dei Martiri, ha ospitato la cerimonia per dare il benvenuto ai nuovi iscritti. Ad accogliervi il presidente Genaro Annunziata, il consigliere segretario Ada Minieri e i consiglieri Giovanni Alfano, Stefano Iaquinta e Alessandro Piantadosi, a cui si è aggiunto successivamente il consigliere Sergio Burattini. Agli iscritti è stato consegnato il distintivo, una copia del codice deontologico professionale e il nuovo tesserino elettronico. Giunto alla sua settima edizione Women Value Company, riconoscimento nato dalla collaborazione di Fondazione Marisa Bellisario e Intesa San Paolo, ha costituito un punto di riferimento per tante piccole e medie imprese, si legge nella nota, sia pubbliche che private che hanno avuto la lungimiranza di aprirsi a un futuro di eccellenza con politiche di inclusione, di valorizzazione del talento delle donne, di welfare aziendale e di parità di genere nel lavoro.